Martedì 15 aprile, nuvolosità sparsa e vento da nord-est, minime in salita, massime in discesa, comprese fra i 10 e i 17 gradi, mare da poco mosso a mosso. Mercoledì 16 aprile, cielo sereno o poco nuvoloso, clima ventilato, minime in brusco calo, massime in lieve innalzamento, oscillanti fra i 4 e 18 gradi, mare da poco mosso a mosso. Giovedì 17 aprile, bel tempo, sereno e ventilato, temperature stazionarie, mare poco mosso. La marea di martedì 15 aprile è sostenuta, la massima alle 23 e 35 80 centimetri, la minima alle 17 e 25 meno 15 centimetri.